Sì, è un po' togno. Oh, qua, qua c'è più pericolo, se tutti che è spaccato. Quelli che veri sono, sai. Poi ci sono due, non soppi, non soppi. Non soppi, non soppi. Non soppi, non soppi. E se volete il mio incontro, se volete il mio incontro, vi portate. Non soppi. Non soppi. Non soppi. Non soppi. Non soppi. E' stato abbandonato, se c'è abbandonato. Sì, siamo... Un'importante manifestazione controllo. Sì, hanno una scuola. Sì, hanno una scuola. Sì, quando prendevano le tre. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. E' una cosa fatta a fatta. E' un'altra cosa. Temporalmente così. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. Fai troppo... E' troppo courti. Poi Э molto Wür適, potrebbero essere arrivati. Si, è un'altra cosa. C'era una cosa. Poi... Per molti non ci crederano potrebbero amparciare. Grazie. Grazie.